Padrone di casa di questo convegno che è stato dedicato alle strategie possibili di uscire e di uscita dalla crisi è naturalmente il presidente dell'ACA, Associazione Commercianti Albesi, Giancarlo Drocco, ben trovato. Buonasera. Buonasera. È un'impresa possibile, quindi questa crisi non sembra davvero insuperabile ed è un'impresa appunto fattibile proprio perché grazie all'impresa, grazie alla creatività, al talento e alle risorse di coloro che rischiano improprio si può davvero superare questa fase di grossa difficoltà che stiamo vivendo. Intanto ce lo poniamo ovviamente come prospettiva, quello di superare la crisi, nel senso che non abbiamo ancora gli elementi per poter dire quali sono gli strumenti per migliorarla o per superarla, o vedere lontanamente una luce nel tunnel. Qualcuno dice che c'è, molti non la vedono e quindi siamo ai primi passi verso probabilmente una concezione nuova dell'economia, dei rapporti eccetera, perché questa è una crisi strutturale che non si cambia ovviamente né in pochi giorni, probabilmente né in pochi mesi, forse neanche in pochi anni, nel senso che dobbiamo studiare quello che sarà tra qualche anno il futuro dell'economia generale, dei rapporti sociali, della politica in senso stretto e naturalmente più ampio. Per cui dobbiamo vedere queste cose. Il convegno ha proprio questo scopo, di cominciare a ragionare su un problema che tutti ne parlano, tutti ne soffrono ovviamente, ma non abbiamo ancora esattamente quelli che sono i passi che dobbiamo fare nel futuro. Credo che questo convegno sia adatto per fare una cosa del genere, o almeno lo speriamo, nel senso che c'è una grossa partecipazione da parte dei nostri associati e dei nostri vicini degli associati, nel senso che tutta una serie di imprese hanno aderito a questo convegno, anche se non sono ancora associati, hanno aderito a questo convegno anche per vedere una strada nuova da presentarsi. Noi proponiamo, diciamo così, con tre esperti di dare queste prime indicazioni. Questo convegno non sarà l'unico, ne faremo altri man mano nel tempo per poter arrivare poco per volta a individuare dei passi giusti da proporre alle nostre imprese.